Al club con la fine del 2015 c'è stata questa notizia che è l'avvicendamento tra il professor D'Affiume e te alla presidenza del CVR, quali sono le tue sensazioni dopo tutti questi anni spesi qui al circolo? Io mi sento di casa qui, quindi non è certamente qualcosa di oltremodo qualificante il fatto della presidenza, io ho sempre lavorato per il circolo velico per cui tutto sommato non mi cambia niente, mi dispiace per Egidio che per le sue ragioni personali non ha potuto completare il mandato, però è sempre nei nostri cuori, al pari di tutti gli altri presidenti del circolo velico che sono personaggi, sono sempre stati personaggi di particolare rilievo qui nel nostro territorio. Che circolo hai trovato, una realtà che chiaramente conoscevi e a cosa state lavorando per il 2016? Il circolo tutto sommato per me nulla di nuovo ovviamente, però ho visto che adesso questi ultimi 7-8 anni ho visto che il consiglio direttivo è molto preparato, sono state divise le professionalità dei vari colleghi. Io vedo che per il 2016, ma già nel 2015 questo è avvenuto come negli anni precedenti, ci sarà un ulteriore salto di qualità. Noi vogliamo che il circolo velico prenda giustamente la sua posizione, la posizione che le aspetta poi da sempre. Parlando con Jacopo Pasini, in un'intervista che abbiamo fatto pochi minuti prima della tua, è emersa una chiara connotazione del circolo verso la promozione della vela, verso gli ambienti del dilettantismo. Non è che ci inventiamo niente di nuovo perché il nostro statuto parla chiarissimo di quali sono i compiti istituzionali. Certo che adesso per variate ragioni c'è qualcuno che mette in dubbio il fatto che le ASD, associazioni sportive dilettantistiche senza finalità lucrative, in qualche maniera siano delle bandiere dietro le quali si nascondono attività di diverso tipo. Noi non siamo di questa idea, non lo siamo mai stati. Allora per fare questo noi dobbiamo enfatizzare tutta la nostra attività promozionale, che lo facciamo nei confronti dei giovanissimi, più corsi di perfezionamento per quelli che provengono dalla scuola vela e mantenere la vita sportiva di tutti i nostri giovani. Parallelamente anche le barche grandi, cosiddette barche d'altura, sono nel nostro cuore come sempre, anche se i momenti non sono particolarmente favorevoli per tutto questo. Però noi facciamo di tutto perché sia sottolineata la nostra vocazione, che è quella dello sport dilettantistico e che non ci sono finalità lucrative. Al di là dell'aspetto sportivo, che è chiaramente uno dei principali seguiti dal CVR, parlando di quello che è il CVR, di che realtà stiamo parlando, quanti soci più o meno conta, posti barca, diamo un'idea della struttura. La struttura, noi abbiamo 65 mila metri quadri di territorio in concessione, quindi fra acqua e situazione a terra, due sedi, situazione strutturata ormai anche consolidata e radicata. Le barche che è presenti nei nostri ormeggi sono circa 390 e i soci del circolo velico superano di poco, le 800 unità. Le relazioni tra il circolo velico e quelle che sono le istituzioni locali e soprattutto le istituzioni che gestiscono lo sport della vela a livello italiano e internazionale? Qui contiamo innanzitutto degli ottimi rapporti con il territorio e con le istituzioni del territorio, a cominciare dal comune, la regione e le istituzioni delle capitanerie di porto, l'autorità portuale e quant'altro sia. A livello nazionale siamo ben conosciuti e ben voluti perché noi ci siamo sempre battuti nell'ambito dell'attività sportiva sotto la bandiera della Federazione Italiana Vela e del CONI. Qui sfrutto anche le mie conoscenze personali perché quasi vent'anni passati al vertice della Federazione Italiana Vela Nazionale evidentemente mi hanno lasciato rapporti amichevoli che tuttora esistono e che ci danno la possibilità tanto per farci conoscere e per far sapere che noi ci siamo. Parlavamo prima con Jacopo Pasini di questa novità che è emersa nel 2015 collegata al Cvr che è il Ravenna Selling Center. Quando Jacopo me ne parlò, parlo di qualche mese fa, stavamo studiando quello che potevano essere il corollario di tutte le nostre attività. Io ho apprezzato notevolmente l'idea di Jacopo e peraltro condivisa totalmente da tutto il consiglio direttivo. Noi ci aspettiamo da questa ulteriore disciplina che noi vogliamo portare avanti e nello stesso tempo dare degli naturali sfoghi ai nostri atleti ed anche quanto possa provenire dall'esterno. Io credo che questa situazione possa essere solo vincente. Il fatto di fare un corso di approfondimento dell'attività velica nell'ambito con le nostre imbarcazioni che sono 6 ton 28, peraltro il progetto di Giovanni dice Carelli, quindi la dice tutta, il nostro socio tra l'altro. Io credo che questa sia una perla alla quale il circolo velico deve dare la massima possibilità di realizzazione perché sono convinto che anche questa strada potrà essere utile sia al circolo velico ma al mondo della vela nazionale.